Nel 1936 siamo andati a Genova per un anno, abitavo in Trastevere prima, siamo andati a Genova per un anno, dopo siamo ritornati a Roma e dopo siamo andati a Monza, da Monza siamo passati a Milano, a Monza c'avevano uno stabilimento con parecchi operai e il nome della compagnia era SAFE, Società Anonima Forniture Etili e ci hanno levato la licenza perché hanno cominciato che gli ebrei non potevano avere negozi, non potevano avere fabbriche, solamente se c'avevano qualcuno che aveva qualche lavoro da finire, può essere che lo poteva finire, ma dopo le licenze li levavano, tutti gli ebrei hanno levato la radio e tutto quanto, ma noi c'avevamo la radio nascosto e sentevamo la radio Londra. Prima del 16 ottobre ci hanno chiesto 50 kg di oro e in termini di 24 ore le abbiamo dato, 24 ore 50 kg e c'è stato mio cognato che ha detto oggi si prendono l'oro e domani ci si prendono le persone e così è stato e il 16 ottobre, era di sabato, pioveva un po' mi pare, non mi ricordo proprio se pioveva, era nuvole, e mi era alzato presto perché dovevamo andare a fare la fila delle sigarette, che non si trovava il tabacco, quelle sigarette a quei tempi, allora andavamo a fare la fila per comprare il tabacco, mentre che stavamo lì io e mio fratello che stavamo per scendere sentiamo bussare alla porta alle 5 di mattina e mio padre va a aprire la porta, era un tedesco e un fascista, con un biglietto in mano, dice preparate una valigia, con i soldi, i gioielli e qualche cosa da mangiare perché dovete fare un viaggio per andare ai campi di concentramento, ma i campi di concentramento noi credevamo che erano quelli che mi pare che c'erano a Fossoli, che erano tutte le famiglie insieme, invece non era così, ci hanno preso, ci hanno messo nei camion, noi abbiamo aspettato, io e mio padre e io e mio fratello abbiamo aspettato tutti quelli di famiglia un quarto d'ora, venti minuti giù, stavo all'angolo di via Otranto e dal viaggio delle milizie potevo scartare, scappare perché prendevo la strada, quella lì vicino a casa perché era di angolo quasi, invece abbiamo aspettato mio padre e tutta la famiglia, ci hanno preso, ci hanno messo nei camion e ci hanno portato al collegio militare a Roma dove stanno i carcerati, ma vicino perché quell'altro era il collegio per gli allievi ufficiali, questo e quell'altro. Dopo due giorni che stavamo là dentro che, posso dire questo qua, coi soldi, ci andavamo al gabinetto, ci andavamo le sigarette, quei biglietti da mille, a quei tempi i biglietti da mille era qualche cosa, per non darglielo ai tedeschi. E dopo ci hanno messo nei camion e ci hanno portato alla stazione Tiburtina di Roma e ci hanno messo dentro i vagoni bestiami, una cinquantina di persone, ogni vagone, bambini, malati, vecchi, giovani, tutti mischiati. Non si poteva respirare perché le porte erano chiuse, c'erano solo i ferati, quelle che ci stanno ai finestrini per aria. E così siamo cominciati a dopo andare via, il treno che è partito e per cinque o sei giorni non ci siamo fermati mai. Ci siamo fermati, mi pare, a Padova, che c'era la Croce Rossa e ci ha dato un po' da mangiare, qualche cosa. E dopo ci siamo rimontati dentro ai treni, dentro ai vagoni e ci hanno portato a Auschwitz, Bunkenwald, i due, i migliori alberghi dei, i migliori alberghi. A quel mentre, quando siamo arrivati, ci hanno fatto scendere dai vagoni e ci hanno diviso uomini da una parte, donne dall'altra, i vecchi dall'altra, i ragazzi dall'altra, lo sai, tutti. E davanti ai vagoni quando siamo arrivati c'erano tedeschi e cani, perché se qualcuno faceva qualche cosa che mandavano il cane a Muzzicaglie, quello e quell'altro. C'era un interpreto che aveva detto, dice, chi può lavorare si mette da una parte e chi non può lavorare si mette dall'altra. Mio padre ha detto mettiamosi da parte dove si lavora e io, mio fratello e mio padre ci siamo messi da parte dove si lavora e gli altri si sono messi, mettiamoci erano quelli che c'erano un negozio per dire che, dice che io ho lavorato, si sono messi da parte dove non si lavorava, quelli che l'hanno portato, specialmente quelli, i vecchi o quelli che portavano il bastone come il mio sio che portava e cantava avanti col bastone e li portavano nei garetti e li portavano via invece di portarli come hanno fatto, a noi ci hanno fatto fare la doccia, dopo la doccia ci hanno fatto il numero al braccio, questo qua, 158, 509, mio fratello aveva 158, 510 e mio padre 159, 508. Da quel momento non siamo stati più uomini, ragazzi, siamo diventati bestie. Neanche ci ho avuto il tempo da salutarla, quando ci hanno diviso e scesi dal treno. E allora abbiamo cominciato ad andare ai campi, a Oswitz siamo stati una quarantina di giorni, in quarantena, e dopo ci hanno cambiato il campo, siamo andati a un altro campo di miniere di carbone, ma tra le miniere di carbone c'erano anche i treni che arrivavano con i sassi che ci facevano le strade e dovevamo vuotarli con le pale o se no dovevamo aiutare i muratori a portare i mattoni sulle spalle, sulle scale, sulle scale, e questo qua. Dopo, io che ero più giovane, mi avevano messo alla miniera di carbone, ma sopra c'è una macchina che faceva così, portava il carbone su, e c'erano i sassi, dovevamo levare i sassi, è andato bene, per un po' di tempo stavo là, andavo bene, ma quando la sera io tornavo, c'era un albero con certe mille grosse così, la prima sera, la seconda, una settimana, dieci giorni, ho preso, sono scappato dalla fila, che c'erano i tedeschi pure con i fucili, e sono andato a più o meno la mela, e i tedeschi subito con i fucili in mano, perché credevano che volevo scappare qualche cosa, invece sono ritornato in fila, e siamo entrati dentro al campo, dentro al campo hanno fatto il reporto, e i capuccioni mi hanno preso, e mi hanno mandato il miniere di carbone sotto, 400 metri sotto terra, le gallerie un metro e mezzo di altezza, e si lavorava in ginocchio, per 12 ore al giorno, e dopo la sera ritornavamo al campo, si doveva andare a fare la doccia, allora, perché eravamo tutti nei carbone di qua e di là, andavano a fare la doccia, dopo si ritornava dentro le baracche, invece io mi sono levato i pantaloni, li ho legati giù, andavo a rubare le patate, dentro un magazzino che stava a una baracca, entravo dentro, impio i pantaloni delle patate, e mi portavo, rubavo, perché la fame era brutta, e se eravamo messi d'accordo con quelli del bagno, quelli dei docci, guardavano i caldaie, questi e quell'altro, erano tedeschi? no, no, tedeschi, erano prigionieri pur loro, ci stavano gli ebrei, ci stavano i cattolici, ci stavano i gay, ci stavano i malviventi, erano tutti mischiati, e ho preso, gli ho detto, metà patate ve le dà buvi, e metà me le dà da me cotte, ok, ok, e per un po' di tempo ho fatto così, ho rimediato un po' di patate, una volta però, quando davo le patate, certe volte le davo a mio fratello, gli dico, portagli è là, che te fai coce, e dopo me li porti un po', me li porti pure a me, perché la sera lui entrava, io uscivo, da Minere Carbone, perché c'erano i turni, e una volta viene mio fratello, e se è il mio fratello, io, mio fratello, viene il mio fratello, gli dico, le patate? Ah, ce le hanno levate, di qua, di là, invece dopo ho saputo, che se era mangiato lui, è qua amico suo, con la fame, la marcia della morte è stata, che gli hanno messo il nome, quando si hanno portato via, che arrivavano i russi, arrivavano i russi, e allora ci portavano via, tutti in fila, di sera, di giorno, abbiamo fatto chilometri, a piedi, con la neve, e dopo, quando si fermavamo, ci facevano fermare, si mettevano uno sopra l'altro, per riscaldarsi, perché non ce la facevano, e c'era gente che moriva, e allora gli hanno messo il nome, la marcia della morte, ci avevano anche, che quando ci portavano via, avevano detto, che qualche volta, si fermavamo, a qualche fattoria, dice, non toccate niente, perché se no, vi ammazziamo, invece uno, pare che ha preso qualche cosa, gli hanno fatto scavare la terra, dopo gli hanno sparato, e l'hanno messo dentro, mi prende mio fratello, vedo mio fratello, c'aveva una borsa, prende, me la butta addosso, dice, che è, reggela, che dopo me la dai, ho detto ok, dopo, si è andata a fare la cuccia, mi pare, quello che doveva fare, è venuto là, e gli ho preso la borsa, gli ho dato, dico, ma che c'è dentro, dice, c'è un gatto morto, ho preso la borsa, dico, dai, mangerò la cosa, il gatto morto, l'unico cosa che non ho mangiato, è il gatto. un filone di pane, dei toast, era diviso in otto, una fetta per uno, tutto il giorno, e una scotella di zuppa acqua, zuppa acqua, certe volte, eri fortunato se ci trovavi qualche patata, dentro, e arrivò un camion pieno di patate, e allora ci chiamavano per scaricarlo, c'era un tedesco, io stavo a prendere un po' di patate, quando era quasi finito, mi stavo a prendere un po' di patate, e mi ha guardato, mi ha visto, invece mi si è messo davanti, c'aveva il paltò sulle spalle, mette i bracci dentro, dice, Snell, Snell, mi ha fatto rubare le patate, no, quelli di esercito, sono quelli che, che non volevano stare neanche in guerra, è stata tutta l'SS, Hitler, e lui è stato, e dopo Mussolini ha sbagliato, a mettersi con Hitler, ma pure papà, e tu nonno, doveva essere per forza iscritto al Fascio, se no non potevi lavorare, non potevi andare a scuola, e niente, allora c'avevano lo stema del Fascio, noi lo chiamavano, ma la cimicetta. No, quando siamo usciti, proprio che è, è stato quando sono entrati gli americani, i russi, gli inglesi, i francesi, tutti, stavano in mezzo, e i tedeschi, erano finiti, e allora siamo, e io mi sono messo, io e mio fratello, ma la maggior parte io, mi sono messo con l'esercito americano, e aiutavo qualche soldato, sai, gli andavo a prendere da mangiare, questo e quell'altro, e c'è stato un soldato che era ebreo, dice, se vuoi ti porti in America, vieni con me in America, e mio fratello, no, 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 voglio ritornare a casa, perché non so di mamma, di mia sorella, e siamo ritornati a casa, ci siamo fermati, due mesi con gli americani, dopo ci hanno portato al confine italiano, Eger, e dopo da Eger siamo andati a Bolzano, e dopo ho trovato un camion, che conosceva mio zio, che aveva, adorifazione di caffè, e gli portava il caffè, e gli ho detto, dove vai? dice, vado a Roma, dico, mi dai un passaggio? dice, ah no, dico, ma guarda che sono il figlio di Cammerino, e il nipote di Cammerino, ah, ok, ha preso e ci ha portato giù. Il mio padre lavorava, a scaricare i vagoni, questo e quell'altro, e quando stavo in fila, io non l'ho visto morire, io l'ho visto morto, mio fratello l'ha visto, e quando ritornava indietro, perché doveva camminare, è caduto per terra, non si sa se era il cuore, già quello che era, non lo sappiamo, e c'è stato un tedesco, invece di andare lì a farlo aiutare, ha preso e gli ha dato calci, calci, e ero morto, così. Davanti al tuo fratello? Davanti al mio fratello, io non l'ho veduto, io stavo in mineria di carbone. Come l'hai saputo dopo? Lui, me l'ha detto mio fratello, e che dopo il giorno lo portavano via e lo mettevano nei forni, e come tutte le altre persone che quando siamo arrivati, che vendevano, dicevano dovevi andare a fare la doccia, invece di fare la doccia, usciva fuori il gas e l'hanno ammazzati. Alla prossima Grazie a tutti